Su questa primavera d'Europa, questa settimana, arrivata alla primavera d'Europa, avremo altri appuntamenti all'Iceo Bonporti, quindi ho portato qualcuno, qualcuno all'Iceo Bonporti, tutti i giovani nella zona di Fornace, di Baseglia e di Civezzano, con l'Iceo Rasse di Cless, l'Iceo Fish Show di Trento, l'Iceo Vittoria, anche con gli anziani, anche l'azienda, la casa di riposo di Lovato, c'è che si fa interventi. Una cosa che mi fa pesare notare è questa, io per lavoro, queste sono le quinte elezioni che seguono, è la prima volta che veniamo richiesti da così tante parti per fare attività di informazione sui non europei.